Incontriamo Lorenzo Gagli ma soprattutto abbiamo lo scupi, il suo maestro. Com'è Lorenzo? Parlaci un po' di come gioca questo ragazzo. In questo momento sta giocando veramente bene, ha avuto un inizio di stagione un po' difficile, tante cose hanno cambiato nella sua vita, ha avuto un tempo di adattazione, se dice così. Adattamento, sì, va bene. Mi dispiace il mio titolo italiano, non è perfetto. Poi adesso sta tornando, si sente bene, la fiducia è qua, tranquillamente abbiamo fatto un grande lavoro, poi tranquillamente penso che nella sua testa è tranquillo, questo è il più importante, fiducia sta tornando, aspettiamo i risultati. Ma è un giocatore di feeling oppure un po' più meccanico studiato? Ha sempre stato un grande giocatore di feeling e il mio lavoro era di portare una cosa nuova, un po' di disciplina, un po' di tecnica per avere un equilibrio perfetto per giocare. Il suo feeling adesso è, la sua tecnica adesso è, come si dice in Italia, in italiano non so, si va tutti insieme adesso. La tecnica per il suo feeling la aiuterà sicuramente. Adesso ora chiedo a te com'è il maestro? Ti ha martellato? Un tosto? Sì, mi ricordo la prima volta che sono andato da lui, soprattutto ero molto diverso, anche come, sia come giocatore, ma soprattutto come persona, mi allenavo meno, ma soprattutto magari nel modo sbagliato, per cui mi ha cambiato un po' la cultura, diciamo, del modo di allenarsi. Ma allora, lui diceva che sei un giocatore di feeling, è vero, ti senti anche tu così? Perché ci si sente? Sicuramente non sono un giocatore costruito, vado molto a istinto, anche in campo tiro molti colpi a istinto, seguendo il mio feeling, non tanto la tecnica, la metto a posto in campo pratica, poi quando vado in campo cerco di giocare con quello che ho dentro. Sei più un giocatore draw o fade? Dritto, dritto. Quando gioco bene mi parte dritto. Oh, scusate, ha detto dritto. Cosa ti aspetti da questo Italian Open per lui? Aspetto soprattutto che prendesse piacere. Giocare, il gioco sta tornando e lo vorrei vedere con il sorriso e niente di più. I risultati non si controllano, le cose che possiamo controllare, il lavoro, la intensità nell'allenamento e questo si può controllare. lo sta facendo bene. I risultati purtroppo non sono cose che si possono veramente controllare e allora se lui è contento del suo gioco, se lo vedo con il sorriso, sono contento. Dopo mi lasci il suo numero di telefono perché magari si può fare qualcosa anche per me. Chiedilo a lui. Costa tanto? Già fagli lo sconto. In bocca al lupo. Grazie mille. Grazie. Grazie a lui. Grazie. Grazie a tutti.